Ciao ragazzi, qua Riccardo Fasoli, per la prima volta un tutorial in italiano, almeno provo, vediamo se mi ricordo come si fa a parlare in italiano. In questo giro faccio un piccolo tutorial per cercare di creare quell'effetto di luce, questa luce diffusa, che avevo già fatto vedere in inglese come si fa a fare in Final Cut senza uso di nessun plugin, questo giro lo faccio con l'utilizzo di Color Finale, che è il plugin che uso di più per la Color Correction e il Color Grading, ed è quello che mi piace di più in Final Cut. Con l'ultimo update si riesce a fare questo effetto in maniera molto semplice con un risultato migliore di prima. Dunque, andiamo e vediamo come si fa facile. Allora, eccoci qua in Final Cut, ho scelto questa clip qua con un forte contrasto, qua c'è una finestra dove viene la luce dentro, e mi piacerebbe avere questo effetto di questa luce che è un po' più diffusa, è come se avessi quel filtro, il Pro Mist, il filtro Pro Mist dà quell'effetto di luce un po' più soffusa. Mi piacerebbe ricrearlo, si può crearlo in post, non è come avere il filtro originale, però l'effetto vedrete che non è niente niente male. Allora, come prima cosa andiamo a colorare la clip, mettendoli una delle mie loot. Va bene, questa qua è l'immagine con la quale voglio lavorare, avere questo tipo di luce diffusa. Per farlo basta aggiungere un layer, un color wheels, si possono fare anche con le curve, però lo faccio col color wheels, e qua aggiungo una maschera. Entriamo dentro nel pannello della maschera. Con il nuovo update, qua abbiamo la possibilità di avere questo image mask. Clicco. L'image mask, per guardarlo, viene fuori l'immagine in bianco e nero, giusto per capire dove sto facendo la maschera. Quello che voglio è avere la possibilità di controllare solo ed esclusivamente la luce, solo il bianco. Dunque alzo i neri, per farli diventare ancora più neri, più marcati, e scendo giù con i bianchi. Dopodiché, la sfumo, tutto qua il blur, vuol dire sfumare, e lo sfumo, e viene fuori questo effetto qua, questa cosa qua. Come vedremo, nell'immagine non è successo assolutamente niente, perché è solo una maschera, dunque, se io non cambio niente, non succede assolutamente niente. Quello che voglio cambiare adesso è la luce, e mettere questo effetto soffuso ai bordi del soggetto. Se io dovessi alzare le luci, queste qua sono le luci, i mezzi e le ombre. Se alzo le luci, ho un effetto indesiderato, perché vado a perdere tutte le informazioni che ho, in questo caso, nella finestra. Quello che voglio è alzare i mezzi, e dunque, alzo i mezzi, e vedo come viene questo effetto. Questo effetto qua, è esattamente quello che voglio ottenere. Faccio vedere cosa succede se dovessi alzare le luci. Non succede niente come i bordi, perché quello che vado a toccare è soltanto le luci. Dunque, questo qua non è l'effetto che voglio. Quello che voglio è avere questo. La cosa bella è che posso controllare tutto da questo pannello qua, l'intensità e il colore. Infatti, lo voglio avere più caldo. Così. Tutto qua per me è il risultato ideale. Guardiamo come era prima, e dopo, molto più cinematica, l'immagine. Se dopo gli aggiungo un po' di grain, Final Cut ce l'ha già il suo grain, però io ne ho fatto uno un pochettino, un po' più sporco, un grain un pochettino, una grana un pochettino più sporca. Prossimo tutorial vi faccio vedere come si fa, come potete farvi il vostro grain. Allora, diamogli un'occhiata, com'è il risultato di questa clip con questa luce diffusa. Possiamo guardarlo prima e dopo. Grazie a tutti. Beh, insomma, un trucchetto molto semplice, facile da fare e con un risultato veramente carino. Potete provare anche a questo effetto in altri clip per vedere come risulta, com'è. A me piace, lo utilizzo spesso in diverse situazioni. Leggero, non esageriamo, non bisogna mai esagerare. Comunque, leggermente, dà un bel effetto cinematografico, vintage look, una cosa del genere. Niente, ragazzi, se vi è piaciuto, mettetemi un pollice in su, che cerco di capire se fare questo video in italiano va bene, o è meglio che vado avanti con l'inglese. se invece non vi è piaciuto, siete liberissimi di mettere un bel pollice in basso, magari schiacciatelo due volte per sicurezza. Ok? Ciao ragazzi!